Buongiorno e ben trovati a questa nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa quotidiana. Iniziamo dai giornali regionali, dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi e dunque andiamo sul nostro touchscreen per vedere queste prime pagine. Partiamo dal centro, il titolo di apertura della edizione di Pescara, caldo in mille al pronto soccorso, Pescara malori e svenimenti triplicati, gli accessi all'ospedale negli ultimi tre giorni. A centro pagina il concerto di Gabbani, Gabbani Abruzzo, ora divertiamoci, il cantante al dannunzio di Pescara per il concerto più atteso dell'estate. E poi andiamo nelle cronache di spalla, il calcio di Serie B Pescara oggi calendari, domani inserto di quattro pagine per appunto scoprire il calendario di Serie B. Tutti feriti, giovane madre fuoristrada con i due figli ancora da Farindola, dopo otto mesi riapre la strada per Rigopiano. Sotto la fotonotizia in primo piano troviamo lo scontro con la regione Medici di Guardia contro il taglio delle indennità, poi animali stressati, troppo caldo, allevamenti in difficoltà e ancora ceramiche di pregio, castelli, tante botteghe ancora inagibili. Nel taglio basso, come di consueto, il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna, aiuto, hanno fatto sparire i paesi. Nel taglio alto, invece, richiami dal nazionale, emergenza migranti, rapporti con i trafficanti, giudice blocca una nave ONG. E poi lo scontro alla Camera, alta tensione sui vitalizi, la Boldrini e Spelle di Battista. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, adesso cambiamo edizione, passiamo a quella di Ecchieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura muore due mesi dopo lo schianto Lanciano, incidente sulla variante deceduto, un operaio di 44 anni, inutile nell'ennesimo intervento. Ancora nelle cronache, soccorsi per il gran caldo, più malori tra gli anziani, ancora da vasto, crolla un balcone, bimbo salvato da un pallone. Il calcio sarà derby tra Atletic e Lanciano. Andiamo ancora avanti, sempre sul centro, l'edizione di Teramo, titolo di apertura. Molesta ragazzini, anziano in manette, arrestato un pensionato di Campi, si sarebbe masturbato più volte in un parco giochi. Nelle cronache, il nuovo polo scolastico di Teramo, servono 10 milioni. Andiamo più in basso, in provincia, tanti malori per il caldo africano. A Giulia Nova è notte bianca, la protesta degli esclusi. Continuiamo sempre sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali. Parliamo ovviamente dell'edizione aquilana, si barrica in ufficio e denuncia i politici. Questo è il titolo di apertura. Vezzano, il socio Cicchinelli contesta il nuovo vertice del Gallo e interviene la polizia. Diamo di spalla, nelle cronache, Galzio tentato da Pavia, il primario, verso l'addio per quanto riguarda la sanità aquilana. Tagliacozzo, ragazza uccisa dal cancello, c'è un indagato e a Sulmona, Marelli, operaio, si frattura un braccio. Cambiamo testata adesso, passiamo a vedere la prima del messaggero Abruzzo. Il titolo di apertura, sicurezza leggera per le sagre. Il Ministero dell'Interno ammorbidisce la direttiva Gabrielli per le manifestazioni legate alle tradizioni popolari. Salvi gli eventi estivi in tutta la regione, la soddisfazione dei sindaci che avevano chiesto a gran voce questo tipo di provvedimento. E poi, in questo trafiletto, in questo richiamo dalle pagine interne, la scoperta pescara, quello tsunami dimenticato. Alle 13.40 del 7 luglio del 1979, un terremoto in mare di magnitudo 4,6 provocò un'onda anomala che colpì pescara. Il mare arrivò a Piazza Salotto 38 anni dopo. La scienza si interroga su questo caso. Nella fotonotizia, i giorni di fuoco che sta vivendo l'Abruzzo, fiamme alle porte dell'Aquila. Il titolo è dedicato ovviamente ad Aragno, poi all'anno caramanico l'Abruzzo brucia. Andiamo a leggere nella didascalia. Brucia senza sosta da due giorni il bosco della frazione del capoluogo abruzzese. Ieri è stata una giornata difficile anche in provincia di Pescara, con i vigili del fuoco e i canadèri impegnati sui due fronti. Caldo e vento le cause, ma i carabinieri sospettano anche l'azione dei piromani per quanto riguarda gli incendi, sempre più spesso purtroppo dolosi. Ancora a centropagina, la cronaca. Ammazzo anche tua figlia, stalker fermato dal giudice. Chieti, misura cautelare per un uomo autore delle minacce alla ex compagna. Andiamo a leggere, approfondire questa notizia. Se non torni con me, ammazzo te e tua figlia. SMS, appostamenti e minacce continue era diventato un incubo la vita di una commerciante tiatina di 46 anni, vittima dell'ossessione di un uomo più giovane che non si rassegnava alla fine di una travagliata storia d'amore. Lui, un albanese di 32 anni, è accusato di stalking ed è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dai figli minorenni di quest'ultima. Non solo il giudice ha vietato all'indagato di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo. Da Pescara, il caso, escrementi di cavallo sulla spiaggia, non era un guasto alle fogne, ma appunto escrementi di cavallo. La galoppata rischia di costare una multa molto salata. Andiamo adesso di spalla, troviamo il caldo, l'altra faccia dell'afa, piccola produzione di latte e miele. L'allarme della Coldiretti, mucche, api e maiali, gli animali più colpiti. Nel taglio basso invece, la politica aquilana. L'aquila ha il ricorso, biondi rischia l'anatra, zoppa. Il centrosinistra tenta il ribaltone, è stato depositato il ricorso al TAR di alcuni consiglieri contro la proclamazione degli eletti. I ricorrenti sono assistiti dall'avvocato aquilano Claudio Verini e puntano ad ottenere la verifica dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il ridotto di stacco tra il risultato delle due principali coalizioni potrebbe mettere in discussione il premio di maggioranza scattato a favore del centrodestra. Per il sindaco biondi il rischio è quello della famosa anatra, zoppa. Nel taglio alto andiamo a vedere i richiami, giallo sanitario, l'aquila, lascia il neurochirurgo, Galzio, nulla di deciso, commenta. E poi il porto cambia, pescara, decoro e sicurezza, vie, lavori da 552 milioni. Troviamo anche lo sport, il nuovo pescara, l'Atelat, farò meraviglie per riconquistare l'Atalanta. Questa è la promessa del giocatore che dice conquisterò Zeman con impegno e lavoro. Oggi intanto i biancazzurri conosceranno il calendario del campionato cadetto. Questo per quanto riguarda anche la prima del messaggero. Adesso andiamo a vedere l'apertura della prima pagina della città che riguarda la cronaca. Arrestato il maniaco dei giardinetti. Si spogliava, si toccava e tentava di molestare i bambini a Campli. Intervengono i carabinieri. E poi a centropagina nella fotonotizia denunce in arrivo per prati di Tivo rocce imbrattate dal percorso dei biker. Andiamo nel taglio alto domani la mappa aggiornata delle scuole della provincia. Indici sismici delle superiori problemi in due professionali. E poi comitati e associazioni giù le mani dalla centrale della Cona. Teramo, derattizzazione bis contro i topi giganti. della villa di Spalla. La torre del Cerrano, Cantarini, controlli ci sono e come? Purtroppo non bastano. Risponde alla inchiesta fatta ieri proprio dalla città sui divieti non osservati all'interno dell'area marina protetta. E poi Mosciano, mai bonificata la discarica lungo il Tordino. Andiamo a vedere quest'altra notizia sotto la fotografia. Quote latte, i NAS all'IZS Caporale. Il GIP di Roma non archivia la denuncia degli allevatori. Continuiamo con la lettura della prima pagina della città. I misteri della sanità, il soccorso senza vericello e senza pista. E poi lo sport, iniziamo dal calciomercato di Serie C via libera all'esterno tra Teramo e Bacio Terracino. Adesso è fatta. E poi il Teramo Basket che botto, preso il serbo Milojevic. Continuiamo con la lettura dei giornali, ma adesso lasciamo quelli regionali per passare allo spazio dedicato al nazionale. Dunque andiamo a vedere i principali titoli dei quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera che pone l'accento sull'immigrazione. Patto tra l'ONG e gli scafisti. Sequestrato una nave tedesca, l'accusa è che restituivano il barcone ai trafficanti. Aftar intanto minaccia la missione italiana appena partita in Libia, ma il governo dice solo propaganda. E poi a centropagina il re Filippo, l'ultima uscita pubblica, il principe Filippo va in pensione a 96 anni. Nel taglio alto troviamo un'altra notizia importante. Si apre un altro fronte fra Roma e Parigi. Ora verifiche su Vivandi, socio di Tim. Per quanto riguarda invece l'editoriale, firmato questa mattina da Ferruccio De Bortoli, veri e falsi interessi nazionali, il peso delle scelte, ovviamente la riflessione su quanto sta accadendo fra Italia e Francia. Ritroviamo anche un richiamo per quanto riguarda lo sport. Ovviamente il caso Neymar sta tenendo banco in queste ore. Neymar sceglie il PSG, un affare da ben 550 milioni di euro. Forse anche qualche milione in più. Maxi trasferimento il più costoso della storia. Andiamo avanti. La Repubblica ora. Anche qui l'accento è posto su quanto sta accadendo nel Mediterraneo. L'ONG lavorava con gli scafisti. La nave tedesca Juventa, che ha detto no al patto del Viminale, si faceva consegnare migranti. Libia intanto via la missione con il Sì di Forza Italia all'Arabia, dice Aftar, minaccia di bombardare la marina italiana. Ancora l'intervista al Presidente Emerito della Repubblica Napolitano. Berlusconi sbaglia, fu il suo governo ad autorizzare l'intervento a Tripoli. E poi il caso. Gentiloni a sorpresa frena Bollorè dalla Fincantieri. Si allarga a Telecom la partita fra Italia e Francia. E poi a centropagina il trasferimento, come detto, che sta facendo Scalpore. Si tratta ovviamente di Neymar, il brasiliano al PSG di proprietà dell'Emirato, che vuole rifarsi un'immagine, il titolo, perché il Qatar punta 600 milioni sui gol di Neymar. Andiamo adesso sulla stampa. Anche qui i migranti in primo piano. Dunque il titolo è Blitz dell'Italia. Fermata una ONG tedesca. Andiamo a ingrandire il titolo. Parla il Ministro Miniti. Chi vuole continuare le azioni di salvataggio deve firmare il codice. Via Libera, la missione in Libia. Aftar minacce di bombardare le nostre navi. Proseguiamo sempre sulla prima pagina della stampa. Altra notizia invece che riguarda sempre gli esteri. Tra le ragazze del Nuovo Ruanda. Domani il voto. Clarisse e le altre guidano la carica delle donne che sognano il potere. A centro pagina la vicenda Italia-Francia. Team Vivandi, la mossa del governo dopo la scalata dei francesi sul fronte STX. Fincantieri punta sul patto militare. Polo da 9 miliardi con Parigi. Struttoria sulla gestione. Calenda. Il Ministro dice l'esecutivo fa quel che deve fare. Proseguiamo, andiamo sul fatto quotidiano. Trapani sequestrata all'ONG taxi tedesca. Non diamo foto degli scafisti. I giudici bloccano la nave Jugend Redet. Favoreggiamento alla clandestinità. E questo il reato contestato. E poi le Coree, missili del nord e la città della USA nel sud. Kim ingrassa anche gli americani. Nuova base da 11 miliardi di dollari. Nel taglio alto andiamo a vedere anche questi due titoli. Tagli alla difesa, no alla scuola e al welfare. Ce lo chiede l'Europa. Il decreto che applica la manovrina. E poi Banchi Italia, Etruria e Company restituite la tassa ai correntisti. Le banche avevano scaricato i costi sui clienti. Ora il sole 24 ore. Il principale quotidiano economico e finanziario italiano. In apertura c'è un'intervista al Ministro delle Finanze Padoan. Priorità ai giovani e lavoro. Taglio alcune o in manovra. Queste le direttive per quanto riguarda l'economia. Il Ministro risorse limitate. Correzione dei conti non rinegoziabile con Bruxelles. Veto al Fiscal Compact. Meglio puntare sugli investimenti dell'Unione Europea. E poi a centro pagina. Team ipotesi golden power. Il governo avvia l'istruttoria per valutare l'esercizio dei poteri speciali nei settori strategici. Questa è la risposta ai veti posti sulla vicenda STX Fincantieri. In vigore la riforma nei focus del taglio alto. Processo penale da oggi prescrizione più lunga. Ricorda il sole 24 ore. Andiamo sul messaggero. L'apertura non è dedicata ai migranti ma alla sfida fra Francia e Italia. Su team istruttoria del governo sulla società controllata da vivandi pronti ad usare i poteri speciali. Dicono dal governo. Mossa di gentiloni per spingere Parigi all'intesa su Fincantieri STX. Calenda dice i patti. Bisogna che si rispettino. E poi a centropagina ancora l'immigrazione. L'organizzazione Jugend Redet non ha firmato il protocollo. Contatti con gli scafisti. Ecco le prove. Il PM blocca la nave della ONG tedesca. Le carte prendevano i migranti e rendevano le barche ai trafficanti. Continuiamo con la lettura del messaggero e andiamo a vedere quest'alta notizia a Roma. Scontro sui conti. Il sindaco Raggi. Bonus restano. Il tesoro vuole garanzie. Il sindaco agita all'ospetto dello sciopero dei sindacati. Il MEF dice saldi il debito a rate. E ancora dopo il sì al Senato. DDL concorrenza. Novità in arrivo su TV e telefonia. Andiamo avanti sul tempo restando ai quotidiani romani. Il titolo di apertura. Soccorritori sono banditi del mare. Tutte le intercettazioni sequestrate alla nave ONG. Foto e telefonate coi trafficanti. Due pentiti, microspie e un agente infiltrato a bordo. Dobbiamo mentire alla polizia. Dicevano secondo queste intercettazioni. A centropagina Mattarella va ad Amatrice. Le macerie sono ancora lì. Il titolo sulla fotografia abbastanza eloquente. Sfracelli d'Italia. E poi andiamo ancora avanti. Più in basso. La denuncia del presidente dell'Inps Boeri. È una presa in giro. La camera nasconde i dati. Sui vitalizi. Nel taglio alto. Lo sfogo del regista. Questo è il mio ultimo film in città. Verdone non ne può più. Smetto di girare a Roma. Ancora il Tar del Lazio ferma gli accalappi a turisti in costume. La Raggi ne vince una. Via i centurioni dai fori. Andiamo sul manifesto adesso. Messaggio in codice. Il titolo di apertura sulla foto della nave sequestrata. La procura di Trapani sequestra a Lampedusa la nave dell'ONG tedesca. E il primo intervento contro un'organizzazione che non ha sottoscritto il codice del Viminale sui salvataggi. Il Parlamento intanto approva la missione militare in Libia. L'OIM dice inaccettabile. Ancora. Calenda avverte Vivandi. Italia contro la Francia. Dalle navi alle reti. Andiamo adesso su Libero. Cambiamo, diciamo, versante politico. Andiamo sui quotidiani di centrodestra. Beneficenza. Spese degli italiani. A lei diamo soldi a tutti. Il titolo del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. La Libia ci osteggia e noi le sganciamo milioni. Un miliardo e mezzo di euro al meridione che finirà la criminalità organizzata. Altro che allarme si cita una pioggia di denaro assorbita dai migranti portati qui dai buonisti europei. Sequestrata la nave di un'organizzazione non governativa accusata di trattare con gli scafisti. Dunque questa è la lettura di Libero. E poi Marchionne crea lavoro per questo. I sindacati lo detestano. Avevamo un cervellone e l'abbiamo fatto scappare all'estero. Il capo della Fiat fuggì dalle tasse dall'asse Confindustria CGL che non voleva far crescere l'Italia. Di spalla i trucchi di casaleggio. Il partito più grande è gestito in segreto e senza democrazia. Questa è una polemica che spesso è una critica che spesso viene mossa ai 5 stelle. Continuiamo con la verità quotidiana fondata e diretta da Maurizio Belpietro. Grande fuga dalla RAI che rischia un buco milionario. L'anno nero della TV di Stato dopo Giletti. Ultimo di una lunga serie potrebbe andarsene anche la Gabanelli. Il nuovo direttore generale Orfeo piange. L'anno prossimo 100 milioni in meno. Quelli dati a Fazio fanno ancora discutere. A centropagina invece il femminicidio. La Boschi se ne frega degli orfani delle donne uccise. A centropagina riscatti per 5 settimane. L'Inps ti spilla 88 mila euro. Una donna vuole sanare l'errore fatto dal datore di lavoro nel 1977. Per ammortizzare la cifra deve vivere fino a 93 anni. Continuiamo sul secolo d'Italia. La foto ovviamente riguarda il sequestro della procura di Trapani. Dieci cento mille sequestri. Il titolo scelto dal secolo. Il sequestro della nave Juventa. Della molto discutibile ONG tedesca Rettet. conferma che aveva ragione Forza Italia. Siamo stati noi a chiedere l'indagine cognoscitiva della Commissione difesa del Senato. Che si è poi conclusa con il voto unanime sulla necessità di una regolamentazione delle attività delle ONG. In primo piano Trapani sequestrata nave è di una nota ONG tedesca. Abbiamo già visto la procura di Trapani sull'ONG, contatti con i trafficanti. E poi il caldo torido dal Sahara durerà fino a domenica. Ora a venire che dà una lettura un po' differente di questa notizia del sequestro della nave Juventa. Reato umanitario. La procura di Trapani contesta il soccorso a migranti non in pericolo. Sì delle Camere alle missioni libri e gli arrivi sono in calo. Il giudice sequestra la nave dell'ONG tedesca favorita all'immigrazione ma senza lucro e per altruismo. Come vedete una lettura diversa da parte del quotidiano cattolico. A centro pagina Parolin. Gerusalemme diventi una città aperta dal Medio Oriente al Venezuela. Impegno della Santa Sede per la pace. Ora il mattino di Napoli. Torniamo a parlare invece dello scontro fra Italia e Francia. Il governo sfida la Francia. Formale richiesta a Palazzo Chigi per valutare la gold share anti Vivandi dopo l'addio di Cattaneo. Effetto fincantieri. Calenda chiede di rivedere la proprietà della compagnia. E poi il caso migranti. L'ONG che lasciava scappare gli scafisti. La procura di Trapani sequestra la nave tedesca. Il comandante dell'equipaggio accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E poi a centro pagina l'Audi Cup. Siamo al calcio. Ovviamente è focus sul Napoli. Gol di Coulibaly e Giaccherini. Reina resta in panchina. Buona la seconda. In Napoli doma il Bayern Monaco. Ora il secolo XIX. Quella ONG aiuta gli scafisti. È il titolo di apertura del giornale. Inchiesta della procura di Trapani sequestrata una nave tedesca. Intervista a Minniti per continuare le azioni di salvataggio. Va firmato il codice. Andiamo a vedere anche il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Roma, Telesiluro a Parigi. Ovviamente il titolo riguarda lo scontro fra Italia e Francia. Il governo accende un faro sul controllo francese della Tim. Rapporti con scafisti sequestrata una nave della ONG tedesca. In primo piano ci sono queste due notizie. Anche secondo la Gazzetta del Mezzogiorno. Ora invece passiamo allo sport. Andiamo a vedere i principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta. Il titolo principale non poteva non essere dedicato al caso Neymar. e quindi Neymar e del Paris Saint Germain. Un affare record si scatena il domino per quanto riguarda il mercato. Il Barossa con i 222 milioni della clausola punta a una stella. Coutinho, Mbappé o Di Maria Di Bala è incedibile. Questa vedete è la cifra record che riguarda il passaggio di Neymar al Paris Saint Germain. 562 milioni di euro. Andiamo a vedere il dettaglio di quanto pagato. 222 milioni dunque la clausola. 300 l'ingaggio. 60 lordi per 5 anni. 40 di commissione al papà di Neymar per il trasferimento. Nel taglio alto ancora il calciomercato. L'Inter tenta Vidal. Arturo strizza l'occhio. Ero in vacanza. Non so. Spalletti avrà altri 3-4 rinforzi. Oggi è atteso da Albert nelle strategie. Nell'Azzurri è il Cileno. Il pezzo forte. E poi a Monaco 2-0 ai padroni di casa. Coulibaly e Jack. Applausi al Napoli. Fischi per il Bayern. Ancora di spalla 60 milan. Questo è il primato di San Siro che attende la partita di ritorno col Craiova per quanto riguarda l'Europa League. Partita che si giocherà questa sera alle 20.45. Visibile su Canale 5. Ricorda la Gazzetta. I rossoneri debuttano in casa fra i tifosi entusiasti e partono dall'1-0 dell'andata. Nel taglio basso le trattative bianconere. Juve-Rincon per Spinazzola. C'è l'idea di uno scambio tra il velezzuelano e l'esterno dell'Atalanta. Andiamo sul Corriere dello Sport. Stasera il Craio a San Siro come ai bei tempi. 65 milan e Diego Costa. Le 20.45 preliminari di Europa League. I rossoneri partono dall'1-0 dell'andata in un clima di grande entusiasmo. Montella conferma davanti il baby Cutrone e Fassone tratta con il Chelsea il prestito oneroso di Diego Costa. Nel taglio alto addia la tessera del tifoso. Gli stadi riaprono alla gente. Intesa tra Governo e Coni e FGC in trasferta senza essere schedati. E poi ecco Neymar l'asso che ha sconvolto il calcio. Nel taglio basso assalto a Keita. La Juve si sente in vantaggio. Gelsosì. Napoli splendido. Lezione di gioco ad Ancelotti. Bayern K2-0. E poi Roma sorpresa. La maglia di Totti vola nello spazio. E l'Atletica da domani a Londra. I mondiali che faranno la storia con Bolt. Tutto sport ora. Neymar saluta. Di Balla e Belotti no. Questo è il titolo di tutto sport che domani regalerà i calendari di Serie A e Serie B. E poi stasera in Milan per il preliminare di Europa League. Abbiamo detto alle 20.45. Il caso tessere dei tifosi. Stadi sarà più semplice andare a vedere le partite. L'estero fatto col Fieno. Ecco un campo per lo Zenit. In Formula 1 Kubica pronto al grande ritorno. Già in Belgio in basket. Tutte le rose della Serie A Milano e Super. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna per andare a vedere le pagine interne dei quotidiani regionali. A tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come detto torniamo alle notizie dalla nostra regione dopo aver visto i titoli dei principali quotidiani italiani. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani regionali. Iniziamo dal centro. La pagina di primo piano è dedicata alla sanità in Abruzzo. Il caso dei medici di guardia che sono contro la regione legittimi i soldi delle indennità. Il sindacato eccesso di scrupolo dell'assessorato dopo la richiesta della Corte dei Conti dalle ASL partono le prime lettere indirizzate a circa 300 sanitari con la richiesta di recupero delle somme. Poi nasce il polo IMS per i carabinieri a Chieti. Ieri firmata l'intesa a Roma. Nel taglio basso. Altra notizia che riguarda l'economia invece. Bando del MIUR per lo sviluppo industriale. Lombardo della Willa Abruzzo. La regione non può perdere questo treno. Dice l'avviso scade il 9 di novembre. Avviso appunto fatto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica. Andiamo a leggere per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Voltiamo pagina e troviamo invece il grande caldo. L'afa stressa le mucche, crolla la produzione di latte. Col diretti Abruzzo dice i danni riguardano diverse aziende per un milione di euro. Problemi anche su suini e api. Danni alle coltivazioni di cereali, pomodori, ortaggi e legumi per la grande siccità. Nel taglio alto firmate le quattro convenzioni tra Assessorato e Gall per quanto riguarda l'agricoltura. Nel taglio basso invece castelli, troppe botteghe ancora inagibili. L'allarme è lanciato dal sindacato Seca. La situazione penalizza la nostra scuola d'arte e frena il turismo per quanto riguarda la cittadina della provincia di Teramo. Andiamo adesso sul messaggero. Le tradizioni estive nella pagina Abruzzo, sagre e feste si ritorna all'antico. Il governo alleggerisce le misure di sicurezza adottate dopo i tragici episodi di piazza San Carlo a Torino. Niente più metal detector e piani di emergenza. basterà indicare l'area, l'ambulanza e le vie di fuga. Un provvedimento questo chiesto a gran voce dai sindaci che avevano difficoltà nell'applicare nei piccoli centri il decreto. e le misure di sicurezza. L'intero comparto delle proloco si attende la svolta. Vogliamo diventare imprese sociali accedendo ai fondi. Intanto a Colledara nel Teramano da domani si onora l'arrosticino abruzzese certificato. Scendiamo nella pagina. Troviamo un'altra notizia. Nel riscatto del meridione l'Abruzzo non è protagonista ma nel recente decreto sud inseriti i provvedimenti di grande importanza come le zone economiche speciali. Andiamo a vedere anche la pagina. Abruzzo della città, il quotidiano della provincia di Teramo pone come apertura di questa pagina una notizia che riguarda l'elisocorso. Ancora senza aver ricerlo e pista d'atterraggio, la ASL di Pescara compra un nuovo elicottero che non può atterrare perché è troppo pesante. I ritardi, l'elicottero del peso di 4.600 kg è stato ordinato a febbraio e non può atterrare sulla piazzola dell'ospedale di Pescara perché non vengono ancora fatti i lavori di adeguamento nonostante si sapessero da tempo le caratteristiche dell'elicottero. Ieri c'è stata un'audizione all'interno della commissione di controllo della regione Abruzzo, Mauro Febbo, che nel Presidente dice la situazione è nota da mesi ancora in fase di stallo e la soluzione non sembra vicina. Allora andiamo ad ascoltare su questo argomento due interviste proprio a Mauro Febbo e ad Angelo Muraglia. Sentiamo. I mesi fa vengo a scoprire che fermo in un anchor dell'aeroporto, qualcuno si preoccupa di come io sia potuto entrare a fare le fotografie, sta di fatto che il giorno dopo parte, segnalo che parte un elicottero così importante senza verricello, riconvochiamo chi di dovere in commissione vigilanza, ci dicono che è tutto a posto, che possono partire i corsi. A oggi, dopo sei mesi, siamo ancora a livello che è stato detto dal dottor Muraglia, sta preparando una delibera, un regolamento, devono essere fatti corsi di formazione, quindi ci ha assicurato che per fine anno tutto sarà a posto. Credo che sia uno stato di inefficienza e inefficacia più che visibile e alla portata di tutti. E quindi l'elicottero per il momento è fermo, parte e arriva dall'aeroporto d'Abruzzo, ci deve essere un'ambulanza, quindi altri corsi, altro personale che viene utilizzato per una inefficienza, un'efficacia dell'Als di Pescara, della direzione regionale e soprattutto dell'assessorato. Intanto il vericello sull'eliambulanza di Pescara può essere montato, può essere montato su richiesta naturalmente della stazione appartante che è stata l'Asel di Pescara, che ha condotto tutta la procedura di gara e l'aggiudicazione, su richiesta naturalmente della stessa la ditta giudicatrice potrà montare il vericello. Ma non è il problema del montare il vericello o meno, il problema è che poi gli operatori devono essere in grado e devono essere formati per poter naturalmente effettuare i soccorsi vericellati. Quindi adesso noi abbiamo già, il Dipartimento Salute e Welfare ha già prodotto una bozza per quanto riguarda il regolamento per la formazione di questi operatori che è all'attenzione del Comitato regionale dell'emergenza Abruzzo per eventuali suggerimenti. Questo regolamento potrà essere adottato anche a breve, ma nel frattempo qualora l'eliambulanza di Pescara si montasse naturalmente il vericello, gli operatori attualmente formati possono, su Pescara, che sono circa 10 medici e 10 infermieri, possono eventualmente con un breve training essere formati. Continuiamo con la lettura delle pagine interne. Adesso andiamo ad aprire la pagina di Pescara del quotidiano Il Centro. L'emergenza caldo in primo piano perché mille pazienti sono arrivati in tre giorni al pronto soccorso che è sotto assedio, ovviamente il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, malori svenimenti, casi di disidratazione, anche centenari tra i ricoverati. I numeri del pronto soccorso 92.627, gli accessi nel 2016, 18.223, i ricoveri sempre nel 2016, miglia gli accessi negli ultimi tre giorni, 30 la percentuale dei ricoveri dovuti alle temperature bollenti, 15 medici di turno e 10 tra infermieri e os in servizio. Continuiamo con le pagine interne di Pescara del Centro. Il reportage, i soccorritori, salviamo vite ma riceviamo solo insulti. Il giornale ha trascorso una giornata al fianco degli operatori dell'ospedale, turni da 6 a 12 ore, interventi sul posto in 7 minuti, sempre sotto pressione. Continuiamo ancora, c'è un focus per quanto riguarda le previsioni. Oggi previste temperature comprese fra i 29 e i 39 gradi e domani fra i 29 e i 39 gradi ancora con alle ore 14 rispettivamente 36 e 37 gradi, dunque temperature ancora africane per quanto riguarda la nostra regione. Nel taglio basso a Pescara arrivi da tutto l'Abruzzo, Albani siamo al secondo posto nel Centro Italia dopo l'Umberto I e il lunedì è il caos sempre per quanto riguarda l'ospedale. Proseguiamo ancora, andiamo a vedere altre notizie. Giovane mamma finisce fuori strada insieme ai due figli, Villa Celiera, l'auto guidata dal 27enne si è ribaltata, soccorsi dell'elicottero del 118, feriti non gravemente. Sentenze innovative, mutui casa non pagati, i giudici stoppano le banche, due famiglie e un anziano non riuscivano a pagare le rate a causa della crisi, i tribunali hanno sospeso le procedure esecutive e bloccato le vendite all'asta. Altra notizia, le antenne restano sul colle e i residenti sono beffati. Il Consiglio di Stato annulla la delocalizzazione decisa nove anni fa, decide il Ministero e non la regione. Andiamo ancora avanti, i lavori al porto, fondi per le banchine, al setaccio, i fondali alla ricerca di ordigni, lavori dunque al porto di Pescara e alla diga Forania, lavori che sono in primo piano anche sull'apertura della pagina di Pescara del messaggero, andiamo a vedere il titolo, banchine e pensiline, il porto cambia, decoro e sicurezza per i pescatori in parallelo con i lavori di sfondamento della diga Forania e parte il restyling del bacino. Il Presidente dell'autorità, Rodolfo Giampieri, promette che Pescara sarà un punto di riferimento del medio adriatico a disposizione, lo vedete qui in alto, 552 milioni. L'obiettivo è fare di un'infrastruttura un luogo aperto e frequentabile da tutti i cittadini. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Andrea Costantini. Il porto di Pescara dovrà essere sempre più un motore di sviluppo e occupazione con un impulso particolare al settore della pesca. Così prende forma il progetto di manutenzione straordinaria delle banchine nord e sud elaborato dall'autorità portuale del mare adriatico centrale che ha lavorato in sinergia negli ultimi sei mesi assieme a Regione, Comune di Pescara e Capitaneria di Porto. Stamani la presentazione del bando FEAMP da 552 mila euro, investimenti che serviranno per realizzare un modulo per ricovero dei pescatori e pensilina per il riparo dei retanti, fornitura e installazione dei parabordi d'ormeggio, rifacimento sovrastruttura stradale, allestimento blocchi per servizi igienici e poi un impianto per il trattamento delle acque reflue e del lavaggio del pescato. 35 i posti barca ammodernati lungo i 500 metri lineari di banchine ristrutturate, uno ogni 15 metri con l'obiettivo di rendere il porto una struttura il più possibile partecipata dalla città e che implementi un comparto che occupa 240 persone con un fatturato nel 2016, secondo i dati della Camera di Commercio di 3,3 milioni di euro. Il porto di Pescara merita di essere a livello infrastrutturale un porto all'avanguardia, c'è un progetto molto serio che viene portato avanti sia dalla regione Abruzzo con degli interventi importanti e la regione sarà la stazione appaltante sugli interventi che dal coordinamento che stiamo facendo. In questi sei mesi i nostri uffici insieme appunto alla regione, al comune di Pescara e alla capitania di Porto hanno messo in piedi un progetto molto importante 550 mila euro di progettazione europea al 100% finanziata destinata alla pesca. La pesca intendo come mondo dei pescherecci e dei pescatori, è un mondo molto importante, qui ci sono dei numeri molto seri che vanno rispettati. Quei soldi serviranno a semplificare la vita dei pescatori, a migliorare la vita dei pescatori e soprattutto a migliorare in termini generali l'accoglienza del porto di Pescara. Proseguiamo con i trasporti, sempre sulla pagina del messaggero. 70 mila passeggeri in un mese. Il luglio d'oro dell'aeroporto d'Abruzzo, su base annuale, l'incremento di traffico sfiora il 13% merito delle nuove rotte internazionali. Nel taglio basso sempre di questa pagina falso allarme, inquinamento e escrementi di cavallo sulla sabbia. Continuiamo sempre sul messaggero. Mare fino a Piazza Salotto, quello tsunami dimenticato. Il 7 luglio del 79, un'onda anomala dopo un sismo in mare, i testimoni raccontano lo sciame degli ultimi giorni ha risvegliato la memoria e la scienza si interessa del caso. Nel taglio basso, condanna per Masciarelli e Lanetta. Il caso è quello dei finanziamenti della Fira. Coda da 96 mila euro per il caso Fira. Appunto, finanziamenti non dovuti dovranno risarcire la finanziaria regionale. C'è anche un terzo uomo. Ritroviamo qui la notizia che riguarda l'eliporto che già abbiamo visto sulla città e di cui abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni di Febbo e Muraglia. Vediamo se riusciamo a visualizzare la pagina. No, ci torneremo più tardi allora. Torniamo adesso sul Quotidiano Il Centro. Continuiamo la lettura delle pagine dell'area metropolitana. Palazzo Sirena, anche portoghesi si schiera contro la demolizione. Ovviamente siamo a Francavilla. Il professore che tra i massimi studiosi italiani di architettura e profondo conoscitore della città adriatica appoggia l'appello di Italia Nostra dopo i no già espressi da Fuxas e Sgarbi per quanto riguarda il progetto di abbattimento che vuole portare avanti il comune. San Giovanni Tiatino, Nido ai privati, Inbilico 20 operatrici, CGL e CISL non ha lo smantellamento della gestione pubblica dell'asilo arcobaleno. Continuiamo ancora. Andiamo adesso sulla pagina di Montesilvano. Carabinieri, operazione nella notte, preso fuori dalla scuola il ladro delle macchinette. Giovane Romeno, arrestato e poi subito rimesso in libertà con divieto di dimora, aveva trafugato spiccioli dagli erogatori di bevande dell'Istituto Alessandrini. Andiamo ancora avanti. Nella pagina dell'Alta Val Pescara, Rigopiano, la strada riapre dopo otto mesi. Tragedia del resort percorribile da oggi la provinciale Farindole e Vado di Sole, devastata dalla valanga e dalle frane. Questo per quanto riguarda la Val Pescara. Poi Manoppello, Marsinel, 61 anni dopo, per quanto riguarda il ricordo della tragedia del Bois du Casier, la miniera di carbone a Charleroi in Belgio. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire adesso la pagina di Chieti. Lanciano, variante mortale, muore due mesi dopo lo schianto in moto. Guglielmo Natale, 44 anni di Castelfentano, è deceduto a Roma dopo l'ennesimo intervento chirurgico. E poi, a vasto, tragedia sfiorata, crolla il balcone, bimbo salvo per un pallone. Al suolo, terrazza di otto metri, il piccolo di tre anni giocava al piano terra. Nel taglio basso, la Allibarton, la vertenza che si è aperta ad Ortona, fumata nera con i sindacati. Ieri l'incontro, il primo fra sindacati e proprietà dopo l'annuncio di 30 esuberi che l'azienda vorrebbe mettere in atto ed anche con la preoccupazione che l'azienda possa lasciare il sito di Ortona, multinazionale che si occupa di idrocarburi. Vediamo come è andato l'incontro di ieri in Confindustria a Pescara. Un mese e questo è il lasso di tempo che sindacati e proprietà si sono dati per valutare possibili soluzioni alternative, cioè la cassa integrazione, rispetto al licenziamento di 30 lavoratori della Allibarton di Ortona. La multinazionale americana sta subendo la contrazione del mercato degli idrocarburi per cui ha deciso di ridurre la pianta organica della sede in provincia di Chieti, che non più tardi dello scorso anno aveva subito una sforbiciata di 60 addetti. Il taglio dunque sarebbe di circa il 30% delle risorse umane perché nella sede di Ortona attualmente lavorano 104 persone, oggi fortemente preoccupate per la decisione del board americano che è arrivata in Italia come un fulmine a Celsereno e che potrebbe preludere alla chiusura definitiva. Questa mattina nella sede di Confindustria a Pescara rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda si sono incontrati per una prima riunione tecnica, come spiega Carlo Petaccia della Filtem CGL. Siete aggiornati al 6 settembre, la vostra richiesta è quella di una misura alternativa ai 30 licenziamenti che è la cassa integrazione. È un'azienda che non ha mai utilizzato strumenti come la cassa integrazione perché nella loro logica quando le cose non vanno devono essere solo utili licenziamenti. Credo che adesso anche la crisi del settore che obiettivamente c'è, noi chiediamo che ci sia una diversa impostazione e quindi abbiamo chiesto esplicitamente di non licenziare. Aspetteremo il 6 per capire se questa società voglia veramente lasciare o meno, stiamo chiedendo solamente di prendere un attimo, un anno di tempo prima di licenziare. La storia in parte ci dà ragione perché per esempio possono succedere cose come sono successi da Bagary Hooks che dopo la fallita fusione con Alliburton sono stati acquistati dalla General Electric. Sindacato e lavoratori dopo il 6 settembre si riservano di valutare eventuali azioni di sciopero. Dopo quella data il tavolo comunque diventerà istituzionale coinvolgendo Regione e Ministero delle Attività Produttive. La pagina di Chieti del messaggero apre con la cronaca Stalker perseguita la ex ammazzotetto a figlia. Il GIP non si avvicini più alla vittima e ai suoi ragazzi, indagini della mobile, disposto anche il divieto di comunicare con la 46 anni attraverso qualsiasi mezzo. Voltiamo pagina, andiamo a Lanciano, mastro giurato tra certezze e incognite. Il Presidente Marfisi a prescindere dal problema della sicurezza dice si terranno regolarmente sia l'investitura che la settimana medievale. I contributi restano un giallo, stiamo operando un po' al buio, non sappiamo ancora quando arriveranno i soldi dalla Regione. Lasciamo questa pagina, torniamo adesso indietro per andare ad aprire quella dell'Aquila e dunque siamo sempre sul messaggero. Errori nei verbali dei seggi, il centro-sinistra ricorre al TAR, una decina le firme in calcio all'atto, l'Avvocato Verini, nessun motivo politico, l'eventuale accoglimento dell'istanza potrebbe ribaltare i rapporti di forza all'interno del Consiglio Comunale. Audienza fissata per l'8 di novembre, secondo i legali l'iter si concluderà nell'arco di tre o quattro mesi. Nel taglio basso, la sanità, Galzio lascia, anzi no, nulla è deciso. Nuovi rumors sul possibile abbandono dell'Uminare, Tordera dice, non ne so nulla per i trasporti, autobus L'Aquila Roma, la CGL intravede pericoli per quanto riguarda il trasporto. Continuiamo, il Bosco di Aragno brucia senza sosta, polemiche sui ritardi a causa del vento e del caldo, difficoltà nello spegnimento, gli usi civici, il primo elicottero è arrivato solo dopo tre ore, nessuna polemica, ma un appello agli enti e agli organi preposti a pianificare meglio. E il meteorologo dice, caldo rovente fino a martedì, situazione simile nel 2003 e nel 2012. Continuiamo con la pagina di Avezzano Sulmona, Cicchinelli, Querela e Sibarrica, Algal, il noto personaggio Trasaccano si è chiuso dentro la struttura terraquilana per protesta contro la nuova governance, il nuovo consiglio dell'ente è lasciato fuori dall'ufficio, avverte polizia e carabinieri, ma lui inizia il digiuno. Scendiamo in basso nella pagina, andiamo a vedere quest'altra notizia, sanità taglia il personale e stato di agitazione nella ASL di Avezzano Sulmona, l'Aquila. Andiamo a vedere anche la pagina aquilana del centro, eccola qui, Avezzano, bufera politica, ribaltone, Algal, si barrica nell'ufficio, il socio Cicchinelli, contesta la delibera e impedisce l'ingresso del nuovo CDA, denunciati Berardinetti e altri 16, sciopero della fame, provvedimento arbitrario, proseguirò la protesta, dice finché non sarò ricevuto dal procuratore e verrà ristabilita la legalità. E poi da Tagliacozzo, ragazzo uccisa dal cancello, adesso c'è un indagato. Andiamo ancora avanti, la pagina di Teramo sempre sul centro, inchiesta a Campli, molesti ai ragazzini al parco, è stato arrestato, un pensionato si sarebbe denudato e masturbato davanti ai minorenni in più di un'occasione, è finito ai domiciliari. In provincia il caldo africano scatena una raffica di malori e di incendi, incendi che purtroppo ci sono un po' in tutta la regione. Notizia di cronaca, armi e munizioni detenute illegalmente, fermati due bracconieri della Val Vibrate. Nel taglio basso le frecce tricolori previsti folla e disagi, albadriatica, da sabato pomeriggio divieto di balnazione, limiti per il traffico e la sosta. Andiamo a vedere anche la pagina di Teramo del quotidiano Il Messaggero, eccola qui, troppi soldi per l'adeguamento della scuola San Giorgio da abbattere, il titolo con quale viene aperta la pagina, è arrivato il giudizio degli ingegneri che hanno compilato le schede sismiche, i genitori basta soluzioni tampone sia i prefabbricati di ultima generazione. Poi le quote latte, i carabinieri visitano lo zoo profilattico. Andiamo nella pagina della provincia, Giulianova, nessuna richiesta di migranti, la prefettura conferma nessuna sollicitazione dei privati che intendono mettere a disposizione le strutture, l'assessore Cameli, la notizia dovrebbe mettere fine agli allarmismi e alle polemiche di questi ultimi giorni. Andiamo a recuperare adesso invece la città, andiamo a vedere anche altre notizie dal Teramano. Ingrandiamo la pagina dedicata alle scuole sicure, superiori problemi solo per due professionali. Per quello di Giulianova c'è già stata decretata la chiusura per il Marino di Teramo. Gli approfondimenti sono in corso, indici di vulnerabilità a quelli delle scuole superiori verranno presentati domani dal presidente della provincia Renzo di Sabatino. Poi il ministro riapra il bando per i libri gratis nel cratere, procedura pasticciata e termini troppo stretti. Andiamo avanti, quote latte, il NAS torna all'istituto caporale. Notizia che abbiamo visto anche sul messaggero, il giudice non archivia le indagini, dispone nuovi accertamenti sulla Banca Dati Nazionale degli Allevatori. Ancora Centrale Cona, il merito è solo dei cittadini. Comitati e associazioni invitano la politica a togliere il cappello dai fondi per la delocalizzazione. Continuiamo, derattizzazione bis alla Villa Comunale, l'amministrazione ci riprova con le esche dopo il tentativo fallito di luglio e per quanto riguarda la sanità l'ASL di Teramo ha i conti in ordine nonostante investimenti ed assunzioni. In provincia Grassasso di nuovo imbrattato di vernice, vediamo quest'ultima notizia prima di passare allo sport, scritte indelebili sui massi di Prato di Tivo per segnalare il percorso delle mountain bike. Ora andiamo allo sport come detto, torniamo sul quotidiano il centro, parliamo del Pescara, per Pessina l'Atalanta deciderà entro il weekend. Continua il pressing sulla mezzala seguita anche dallo Spezia, a breve i nerazzurri sceglieranno se tenerlo oppure darlo in prestito. Ultima gara del ritiro alle 17 a Palene, il test con la primavera di Massimo Epifani, dunque test in casa per il Pescara. Stasera invece alle 20 sarà svelato il cammino della B, alzando il sipario sui calendari nel Castello Svevo di Bari. Nel taglio basso invece Mancinelli in sede per la prima analisi dei bilanci, al via l'ispezione sui conti del Delfino dopo l'istanza di Iannascoli, prossimo incontro il 7 di settembre. Andiamo a vedere anche l'apertura dello sport sul messaggero, eccola qui la pagina della Bruzzo Sport, Pescara voglio sfondare, è il titolo virgolettato sulla frase, le parole di Latte Latte, il giovane attaccante dice spero di giocare il più possibile per dimostrare di meritare un posto in Serie A, per una punta lavorare con Zeman e garanzie di successo nel modo di allenare i giovani, è molto simile a Gasperini. Delfino ancora un colpaccio, Vilem per quanto riguarda il calcio A5, mentre per la Serie C Teramo Bacio Terracino stavolta è fatta, l'esterno arriva alla corte di Asta, oggi in programma il Consiglio federale per la composizione dei gironi. Torniamo dunque sul centro, andiamo a vedere il titolo che riguarda proprio il Teramo, c'è il Modena su Barbuti, nel pomeriggio testa Castelnuovo Momano contro la Torrese, il portiere calore dice il gruppo regala sensazioni positive. Poi nel taglio alto l'Aquila è il giorno delle firme per la cessione del club per quanto riguarda l'Aquila a calcio. Nel taglio basso alle 17 amichevole di Serie A all'Aragona Lavastese affronta il Benevento, in Serie D Francavilla prende dipinto e tratta Aquilanti che è un ex del Lanciano e poi il torneo CSI di Chieti con la polizia pendintensiaria che si aggiudica il Memorial. Per i dilettanti la nuova stagione, il nuovo corso rosso-nero viene così un po' frenato nelle sue speranze perché non c'è stato il ripescaggio, quindi ci sarà il derby frentano con l'Atletic e dunque il titolo, ripescaggi e delusioni, il Lanciano resta in prima, Amiternini in eccellenza, Fater Angelini e Sportland in promozione. Qui vedete proprio la composizione dei vari gironi. Continuiamo con lo sport sul centro e passiamo al basket. Roseto nel mirino c'è l'ala, Pivo Patcher, la We Are va su UC, Serie A2 e Billy Basket, il pescarese Masciarelli resta a Siena e il Teramo si rinforza con Milojevic da Montegranaro. Nel weekend per l'automobilismo svolte di popoli sono 118 gli iscritti alla tradizionale crono scalata. Torniamo sul messaggero adesso, andiamo a vedere l'altra pagina dedicata allo sport. L'Aquila ancora un rinvio, Maxi riunione in comune, ma senza accordo. Oggi si decide o la firma o salta la cessione. Emerse nuove divergenze sui conti del club, ma adesso non si può più aspettare. E ancora Vastese e Passerella contro il Benevento. Ufficializzati ripescaggi abbiamo visto per quanto riguarda i dilettanti. Andiamo a vedere, chiudiamo anche il titolo che riguarda lo sport, l'apertura della pagina dello sport della città, ovviamente dedicato al Teramo. Teramo bacio terracino ad essere proprio fatta. I biancorossi prendono l'attaccante esterno ex Lumezzane, battuta la concorrenza di Livorno e Giana Mercato. Si registrano interessamenti di Modena, Albinoleff e Ferralpisalò per Barbuti. I canarini già qualche giorno fa avevano avanzato una proposta all'ex Lumezzane che comprendeva il pagamento del 35% dello stipendio. E con questo si conclude il nostro appuntamento con Mattino 6. La rassegna stampa torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione oggi con il TG6 vi dà appuntamento alle 14, alle 19 e alle 23 come di consueto. Grazie per essere stati con noi anche questa mattina. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.